Salve a tutti e benvenuti su One Piece e Massimo Isperti da Katakuri. Quest'oggi parleremo di una nuova teoria, ossia sulle origini di Kaido, Yodder e la storia di Wanakuni. Dai pochi elementi in nostro possesso, possiamo effettuare vari collegamenti e iniziamo con i giganteschi Odder. Sappiamo di come questi esseri siano circa 4 volte più grandi dei normali giganti. Il primo di loro, a noi conosciuto, è lo zombie visto a Trilver Bark. Molto interessante è il soprannome di questo essere, ossia il Trascina Isole, che in giapponese è Kuni-Iki. Abbiamo visto la strana conformazione di Wano e infatti sembra che le varie regioni siano tutte piccole isole diverse, collegate attraverso dei ponti, alcuni distrutti da Orochi, no? E sappiamo che ogni regione ha un proprio clima, un clima differente. Poi per quanto riguarda l'isola di Onikashima, isola dei demoni, dove Oni significa proprio demone, è giusto ricordarlo, la forma dell'isola sembra proprio la testa, un teschio degli Odder. Un po' come in Inuyasha, vi è la tomba del padre, un luogo dello sconto tra lui e Sashamaru, che era uno scheletro enorme, infatti il padre era il grande demone cane. E somiglia molto. Un ulteriore collegamento è quello di Ace con Odr Junior, il discendente di Odr di Trillebark, e infatti potrebbero essersi incontrati lì, a Wano, Ace e Odr, e anche il regalo che Pugno di Fuoco fece al gigante fu un cappello, che probabilmente la piccola Otama gli insegnò ad intrecciare proprio lì. Perché diciamo questo? Bene, perché secondo noi Kaido potrebbe essere un discendente diretto di questo popolo, ed essere quindi il reale padrone, governatore, imperatore, cui spettano queste isole. Questo pensiero ha valorato anche dalla presenza dei Nambers, che sembrano dei mostruosi giganti con le corna, peraltro anch'essi ubriaconi proprio come Kaido. concetto che però riguarda particolarmente Onigashima, e quindi Kaido è venuto a rivendicare già vent'anni fa. Inoltre la somiglianza fra i due è sempre stata per noi un collegamento. Magari Kaido è veramente un discendente ibrido dei giganti di questa razza Odr, appunto per non essere mai stato definito un uomo, ma come l'essere più forte del mondo. Per tale frase dovrà esserci per forza un motivo. Proprio per questo sarà indispensabile vedere un suo flashback. Infatti, se notate, è l'unico imperatore di cui non abbiamo mai visto nulla del suo passato e di quando era un bambino, a parte la parentesi dei Rocks. Interessante sarebbe anche il fatto che Gecko Moria, per vendicarsi di Kaido, abbia voluto usare un membro della sua specie, ossia Odr. Adesso passiamo alla figura di Kaido e alle varie relazioni sulla sua origine, considerando tutto ciò che abbiamo appena detto su Yodr e su Kaido, che secondo noi è molto probabilmente un vero e proprio Oni. Andiamo ad approfondire i tratti caratteristici di questa figura mitologica giapponese. Quindi adesso passiamo a una piccola descrizione degli Oni, che sono delle creature mitologiche del coro giapponese considerati degli Yokai, simili ai demoni e agli occhi occidentali. Sono personaggi popolari dell'arte, della letteratura e del teatro giapponese che incarnano le forze della natura. I ritratti degli Oni variano tra di loro, ma normalmente vengono descritti come creature giganti e mostruose, con artigli taglienti, dei folti capelli selvaggi, un fisico possente e due lunghe corna che crescono dalla loro testa. Sono fondamentalmente degli umanoidi, ma occasionalmente però sono ritratti con caratteristiche innaturali, come molti occhi, molte dita delle mani e dei piedi. La loro pelle poi può essere di vari colori, diversi da quelli più comuni come il rosso, il blu, il nero, il verde ed anche il rosa ovviamente. Il loro aspetto feroce viene spesso accentuato dalla pelle di tigre che tendono ad indossare, ricordiamo la pelliccia sulle spalle di Kaido, e dalla mazza ferrata che è da loro molto favorita, detta Kanabo, sempre un rimando a Kaido, quindi. Questo modo di immaginarli ha generato l'espressione Oni con la mazza ferrata, cioè Ioni vincibili o imbattibili. Può anche essere usata nel senso dei forte oltre i forti e da qui proprio la presentazione dello Yonko Kaido, come l'imperatore delle cento bestie, la creatura più forte del mondo anche nel uno contro uno. Con il passare del tempo, poi, la forte associazione degli Oni con il male contagiò il modo in cui tutti li vedevano e venivano percepite queste creature, per essere considerate proprio come deportatori o agenti di calamità, come la pestilenza e le carestie. Vediamo qui, infatti, un forte richiamo alle tre calamità di Kaido, ossia Jack, la siccità, Queen, che è la pestilenza, e King, l'incendio, che probabilmente è anche il più forte tra i tre. Un altro elemento, un ulteriore elemento, per cui possiamo considerare Kaido un Oni è accostargli la leggenda di Momotaro. Infatti quest'ultimo andò a sconfiggere un gigantesco Oni, appunto in questo caso Kaido, sull'isola di Onigashima. Egli fu accompagnato da tre animali, che erano un cane, una scimmia e un faggiano, rispettivamente Akainu, Aokiji e Kizaru. Tutti e tre lo accompagnarono, lui l'aveva ingaggiato, tra virgolette, e si faceva accompagnare, grazie al fatto che gli diede dei kibidango, che erano dei piccoli dolcetti, come noi conosciamo già. Tutte queste leggende noi le abbiamo collegate, a una delle prime nostre live sul canale, più di un anno e mezzo fa, al fatto che Momotaro fosse l'insieme fra Momonosuke e Ruffitaro, perché noi sappiamo che Ruffi, l'hawano, si fa chiamare Ruffitaro. Per la questione dei kibidango, invece, abbiamo la piccola Otama, che abbiamo visto aggraziare già diversi animali, e anche un headliner speed. Detto questo, passiamo ad ulteriori ipotesi, su quale potrebbe essere la vera origine di Kaido. Abbiamo fatto altre due ipotesi, oltre a questa dell'Oni, che è quella però per noi più veritiera. Quindi, io ho grande probabilità, quello che noi pensiamo che Kaido sia un Oni, e che abbia ingerito lo Zoan, il frutto Zoan mitologico del drago. Facciamo una piccola descrizione di quello che nella mitologia ci riportano le informazioni sul drago. Il drago, sia in Cina che in Giappone, è un animale ben visto, è un portatore di saggezza, di potere, di fortuna, è una creatura protadice di piogge, e quindi nutrimento per il territorio, per il terreno, ed è anche un simbolo di immortalità, come viene presentato Kaido, come immortale. Le sue sembianze vengono anche rappresentate dalla combinazione di diverse parti dei corpi di animali. Il corpo del serpente, le corna di un cervo, ricordiamo che Kaido, oltre ad avere le corna del drago, ha già delle corna normali, quindi ne ha quattro, a differenza di Momonosuke, che quando si trasforma in drago, ne ha solo due. Gli artigli di un'aquila, le zampe della tigre, le scaglie della carpa, al posto della pelle, ricordiamoci la parte sinistra del braccio e del pettorale di Kaido, ci ricordiamo anche una piccola illazione sui Pokémon, Magikarp, che poi diventa Gerigo, su queste scaglie pericolose. Secondo la tradizione, sono ben 117. Infine, agli occhi di un Oni, appunto di un demone, quello che è il Kaido. Il legame, l'ipotesi di Kaido, che fosse un esperimento di Vegapunk. Il mondo mondiale, infatti, sappiamo che faceva molti esperimenti per il gigantismo, anche sui bambini, ricordiamo anche Gangster Cassino, Caesar Clown, ma ricordiamo anche la Germa 66, con il pare dei sangi che riuscirà a modificare tutti i fratelli, rendendoli praticamente dei robot, dei cyborg, tranne i sangi, l'unico che è riuscito a rimanere umano, e quindi collegamento in passato con questi tre scienziati che ci saranno sicuramente e ci verranno mostrati in futuro. Ricordatevi sempre che queste sono comunque delle relazioni, un approfondimento nostro, anche a livello storico, quindi come sempre dovete dirci voi cosa ne pensate qui nei commenti e in descrizione al video. Un'altra cosa molto importante sono i nostri link, non ci dimentichiamo mai. Ricordatevi di passare dalla nostra pagina One Piece Massimo Esperti Italia, la pagina Facebook dove trattiamo One Piece, Magazine, Databook, approfondimenti storici, commentoni e tante altre cose per divertirci sempre, Versus, molto importante. Passate anche dalla seconda pagina, One Piece Massimo Esperti e tanto altro, dove trattiamo tutti gli altri manghe d'anime. Approfondiamo, facciamo recensioni, anche film di animazione, ci sposteremo anche sul fumetto americano appena avremo un po' di tempo in più, il gruppo che sta crescendo tantissimo, il gruppo Facebook siamo già quasi a mille, dove siete voi super protagonisti, il nostro account Instagram che sta crescendo benissimo anche, dove portiamo altri tipi di contenuti, infine, infine abbiamo aperto un canale Telegram, il canale Telegram che appena raggiungeremo una soglia di iscritti che vi racconteremo a breve, apriremo anche un gruppo Telegram dove sarete ancora di più protagonisti come su Facebook, sempre tutti i link li trovate qui in descrizione. Detto questo, fateci sapere ancora una volta, lo ripeto per l'ennesima volta, voi cosa ne pensate, qui nei commenti. Alla prossima, Pirati, da Monchetti e da Catecuri Suad, i massimi esperti in Italia di One Piece, come disse il grandissimo Telemello, non dimenticatelo, la live con il profeta, con il Vate che ci ha passato il testimone a noi che portiamo la verità Oda è qui ragazzi, Oda è qui, attraverso noi parla, noi parliamo attraverso Oda, Oda parla attraverso noi e la stessa cosa, è uguale, naturalmente, alla prossima, Pirati. Pirati.